Ciao ragazze, come state vedendo dalle immagini oggi è sabato e qui da me piove, quindi direi che in questo perfetto clima autunnale potrei farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo sia online che nei negozi. Partirei da questo pacco che mi è arrivato da Zara, era tantissimo che non facevo un ordine da Zara per me, di solito compro sempre di più per i bambini, però avevo voglia di comprare qualcosa di nuovo da mettere nel mio armadio autunnale e invernale, anche se in realtà ho veramente troppe cose, infatti come sapete è un periodo che sto facendo decluttering, comunque ho deciso di prendere questo maglioncino qui bianco con i bottoni a perline sempre bianchi, mi piaceva proprio perché è morbido e soprattutto perché finalmente non è un maione crop, quindi non troppo corto che diciamo mette in evidenza l'ombelico, ma è abbastanza lungo, arriva sui fianchi, quindi spero, anzi mi auguro che la stagione e l'epoca dei crop top sia finita perché io le maglie così le odio e quindi ho deciso di prenderlo perché mi piaceva sia il modello il fatto che fosse lungo, sempre per la stessa motivazione ho preso anche quest'altro maglioncino classico di Zara più leggero, quindi non così pesante come l'altro, questa volta righe bianche nere con i bottoni a perla, perlina bianca, non avevo niente di simile sia di questo modello che dell'altro, poi ho deciso di prendere una maglietta a maniche corte in cotone marrone, come vedete un marrone scuro perché ho deciso di comprare più spesso capi basici in modo che possa abbinarli meglio con altri capi di abbigliamento che ho nell'armadio e quindi questi sono i tre acquisti che ho fatto per questo inverno su Zara, poi ho fatto un acquisto su Vinted, sapete che io compro su Vinted, ho il mio profilo quindi vi lascio il link giù in descrizione se vi va di seguirmi e guardare il mio armadio e ho comprato per mia figlia questo zainetto per andare all'asilo perché quello che aveva era un pochino vecchio, tra l'altro la ragazza che me l'ha venduto come vedete ha messo dentro un pacchetto di orsetti della Aribo, quindi un pacchetto di caramelle, è stata molto gentile che hanno lasciato anche tutto un profumo all'interno dello zaino buonissimo e lo zaino l'avevo già docchiato su internet e costava 23 euro a prezzo pieno quindi nuovo mentre così l'ho pagato 10 euro con spedizione compresa e come vedete era in ottime condizioni praticamente nuovo e mia figlia era felicissima. Poi ho fatto degli ordini su Amazon, questi ve li ho messi proprio perché ho deciso di farvi vedere tutti i pacchi che mi sono arrivati, li ho accumulati e quindi l'ho messi nel video e io sono abbonata al programma Iscriviti Risparmia su Amazon per tanti prodotti, mi trovo molto bene e infatti come vedete mi è arrivato questo mese la scorta dei deodoranti per mio marito. Poi ho comprato sempre su Amazon un ciuccio da bambina, mia figlia è abbastanza grande devo ammettere però a volte utilizzo ancora il ciuccio e quindi dato che l'unico che aveva era distrutto e rischiava di mangiarsi la plastica, ho deciso di comprare questo, mi piaceva sia esteticamente che come prezzo e spero e mi auguro che sia l'ultimo ciuccio che comprerò e nel frattempo mi è arrivato anche uno shampoo che fa parte degli Iscriviti Risparmia. Vedete nello sfondo il ciuccio azzurro che non è neanche suo, sarebbe di suo fratello ma lui non lo usa e vabbè niente quindi ho fatto questo acquisto. Poi sempre su Amazon ho preso questo set per fare il sushi, è un kit praticamente per fare il sushi fatto in casa, chi mi segue su Instagram ha già visto che avevo deciso di comprare questo set e che l'ho già provato, il sushi ve l'ho fatto vedere su Instagram come è venuto per la prima volta, non tanto bene perché non avevamo gli ingredienti corretti in buona sostanza, quindi non è colpa di questo kit, abbiamo utilizzato di più questa stuoia in bambù, devo ammettere rispetto che tutti gli altri diciamo prodotti come vedete che ci sono all'interno ma più che altro perché anche mentre lo stavamo facendo ci siamo resi conto che il riso che avevamo a disposizione non era adeguato per fare il sushi, quindi dato che ci stavamo accorgendo durante la preparazione che alla fine non stava venendo un granché, non abbiamo poi utilizzato bene tutto il set. Quindi sarà sicuramente per un'altra occasione, però sono contenta di aver fatto questo acquisto proprio perché secondo me facendolo in casa magari è un po' più sicuro, si scelgono meglio gli ingredienti, è anche un'occasione divertente per unire tutta la famiglia e può essere anche un'ottima idea, regalo secondo me per esempio per Natale o per un compleanno. Qui c'è la spiegazione di come si utilizza ed è carino perché ci sono varie forme, per esempio c'è anche la forma a cuore che vi dicono non ho ancora provato, però seguitemi su Instagram dove vi terrò meglio aggiornati. Poi ho comprato da questa ragazza che ha un account Instagram che si chiama Creazioni Cree, dalla quale avevo già comprato un'altra volta e ho deciso di prendere un nuovo set per l'asilo di mia figlia perché quello che aveva, che avevo sempre comprato dalla ragazza, da questa Cristina, non lo trovo più, cioè l'ho perso, non so più dove l'ho messo e quindi ne ho comprato un altro e ho scelto questa fantasia con i fiorellini sui toni del rose e del viola che a mia figlia è piaciuto un sacco e ho preso sia la sacchetta per mettere il cambio che l'asciugamano. Poi su Amazon ho preso questo panno per lucidare i gioielli in argento. Allora, io ho tanti gioielli in argento che sono diventati neri, è proprio il problema principale dei gioielli, poi non so se è proprio un problema dell'argento, scrivetemelo giù nei commenti, a me spesso i gioielli aneriscono a meno che non siano d'oro e quindi ho preso questo panno con poca aspettativa sinceramente soprattutto quando l'ho visto non mi convinceva, mentre invece in realtà devo dire che lucida molto bene. Poi è arrivato questo ordine, anche questo l'ho preso su Vinted per un prezzo di 9 euro, 9,10 euro mi sembra e ho preso queste ciabatte nuove, quindi mai usate di Zara Home, io ce l'ho già praticamente uguali però con il passante, la fibbia oro, queste invece sono d'argento e mi piacevano anche perché l'ho pagate meno della metà rispetto a quanto le puoi pagare sul sito, infatti io adoro Vinted, vi consiglio di guardare e dare sempre un'occhiata prima di fare un acquisto su Vinted. Qui abbiamo una scorta di dentifricio sempre dall'iscriviti risparmia di Amazon, ho pagato ogni singolo pezzo 70 centesimi, quindi lo trovo un buon prezzo. Poi sempre su Amazon iscriviti risparmia, mi è arrivato uno shampoo per bambini, anche qui mi sembra che l'ho pagato 2,50 euro, quindi un ottimo prezzo rispetto ai negozi e poi ho fatto scorta di pennarelli indelebili che mi mancavano, ho scelto questi perché erano di vari colori e con punta sia sottile che spessa. Poi l'ultimo acquisto che vi faccio vedere in questo video che mi è arrivato nell'ultimo mese è questo kit per unghie di Manico, non è un brand o un marchio che conoscevo, l'ho scoperto su Instagram, navigando così, andando su Instagram come facciamo tutte e mi ispirava tantissimo, l'avevo già adocchiato diverse volte. Ho deciso di provare questo kit per provare a farmi da sola le unghie. Su Instagram vi ho già fatto vedere il risultato, vi lascio anche qualche clip qua in questo video, devo dire che sono soddisfatta, cioè mi è piaciuto, anche perché è piccolino, anche il fornetto come vedete è praticamente inesistente, c'è solo quella piccola piastra LED, molto comoda, molto piccola, quindi bello. Non ho trovato una grandissima disponibilità di colori, però per fortuna quelli che piacciono a me c'erano, quindi ho deciso di fare l'acquisto. Il set comunque era completo, il risultato della prima applicazione non mi ha convinto del tutto, ma probabilmente perché io non sono molto esperta, ovviamente dovrò prenderci un pochino l'abitudine e secondo me la differenza viene fatta tantissimo dalla forma della mano e dell'unghia della persona, che quella ovviamente non è modificabile, io non ho delle unghie bellissime, ce l'ho abbastanza rotonde, quindi non mi piacciono già in partenza come forma e poi un altro difetto che secondo me non rende diciamo una buona resa delle unghie fatte in casa è il fatto che bisogna saper fare bene la manicure secondo me, cosa che io non so fare, lo vedete sicuramente ora dal video e quindi anche quello fa tanto, cioè se uno non è capace a farsi bene la manicure come te la può fare un estetista, l'unghia non è bella e quindi puoi metterci tutto lo smalto che vuoi, secondo me che non viene benissimo, però vi ripeto io non sono un'esperta e quindi può essere anche questo un'idea divertente per esempio come regalo per un compleanno natale oppure anche per voi stesse, sicuramente vi fa risparmiare tempo perché queste unghie le ho fatte nel giro di neanche dieci minuti senza uscire di casa, prendere macchine, andare, prendere appuntamenti, quindi probabilmente se riesco a prenderci un po' la mano magari poi mi verranno anche meglio e deciderò di continuare con gli acquisti, non è un video in collaborazione, ho pagato tutto io, mi piacevano i prodotti e ho deciso di provarli, quindi niente spero che questi prodotti che ho comprato nell'ultimo mese vi siano piaciuti o comunque vi abbiano dato un pochino di ispirazione per il vostro shopping, per voi e per i vostri figli, come avete visto ho comprato praticamente tutto online e ho deciso di comprare un pochino di più sia tramite Instagram, quindi tramite social, ma anche tramite Vinted e niente sono contenta di questi acquisti alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, adesso vi saluto, vi lascio al mio finale di unghie di quello che sto facendo, vi lascio quindi al risultato delle mie unghie e se vi va iscrivetevi al mio canale, ringrazio tutti i miei iscritti e ci vediamo sabato prossimo come sempre con un nuovo video, ciao! Ciao!